Occhio giornali di oggi giovedì 17 giugno 2021 ben ritrovati buongiorno a tutti cari telespettatori di Fano TV benvenuti allora siamo qua pronti come sempre per leggere insieme a voi i titoli a commentare a dove è possibile i giornali e le notizie più importanti del giorno che abbiamo già selezionato per voi ma come di consueto prima il santo e poi il tempo i santi di oggi perché sono due santi Nicandro e Marciano il sole è sorto alle 5.26 tramonterà le 20.57 adesso andiamo a dare uno sguardo al meteo dal sito della protezione civile per oggi come vedete probabili rovescio temporali sparsi nelle zone montane durante le ore più calde della giornata con temperature in lieve aumento anche per domani ancora rovescio temporali sparsi in collina e in montagna soprattutto al centro sud la giornata invece di sabato sarà una giornata soleggiata sulla costa naturalmente ma anche in montagna tempo buono e stabile anche per i prossimi giorni allora come di consueto adesso andiamo a fare un salto prima al mare a bagnarci i piedi in spiaggia al mare con il nostro bagnino che si trova bello pronto già in tenuta da lavoro la vostra tenuta da lavoro è invidiata da tutti perché è una semplice magliettina tranquille ci abbatte insomma tutti vorremmo andare in ufficio e toglierci per esempio questa giacca e questa cravatta come va oggi? dai oggi è una stupenda giornata si preannuncia una giornata come quella di ieri calda ma qui a Marotta c'è sempre quel venticello che rinfresca il mare come ieri è stupendo ecco se vogliamo forse la temperatura dell'acqua è scesa un po' ma è sempre gradevole e questo perché è scesa un po' l'acqua? la temperatura dell'acqua? tre giorni fa ha fatto un po' di mare di scirocco probabilmente hanno cambiato un po' le correnti e in costa è arrivata ecco questa temperatura un po' più bassa però gradevole voglio dire anche perché al mattino ancora fa un po' freschino diciamoci la verità insomma al mattino ancora almeno io parto alle 5 qualcosa da casa e sento che è ancora fresca poi magari durante la giornata sale sale giustamente ma insomma senti volevo chiederti visto che ne parleremo tra poco nella rassegna stampa c'è un problema che è serio per anche il tuo settore quello del che non si trovano insomma non si trova il personale ecco volevo dirti come state voi messi a personale lì avete bagnini avete camerieri baristi insomma avete tutto? diciamo che ecco non è stato facile in linea di massima anche sentendo gli altri colleghi abbiamo raggiunto un po' tutti l'obiettivo del personale qualcuno ancora cerca bagnini però in linea di massima ci siamo continuano a venire ragazzi che magari chiedono per un primo impiego ecco senza esperienza quindi magari mano d'opera si trova ma forse non qualificata ecco voi avete bisogno per quanto sia una spiaggia ma avete bisogno comunque di mano d'opera qualificata quindi un bagnino deve avere un patentino deve avere tutto quello che deve fare un corso immagino insomma deve essere preparato ecco sì certo si torna abilitazione quindi ecco per quanto riguarda il bagnino di salvataggio certamente il bagnino di terra magari ci possiamo affidare anche da ragazzi senza esperienza diciamo che riettano a coprire anche persone che non hanno acquisito questo brevetto certo 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 per quelli di terra come dite voi bene ci fai vedere il mare un attimo poi dopo andiamo a vedere i giornali invece facci vedere un po' questa spiaggia questa mattina così ci tiriamo su un po' l'umore eccola qua è stupendo anche oggi è una meraviglia grazie allora buona giornata a voi e ci vediamo domani allora come dicevamo cameriere cuochi il piatto piange il titolo d'apertura del resto del carlino edizione di pesaro di oggi molti titolari di locali stabilimenti lanciano l'appello per la stagione li cerchiamo ma non si trovano centro pagine invece maturità e gioie e follie primo giorno di esami e a urbino scoppia un caso all'itis un'intera classe costretta a svolgere oggi la prova da casa per colpa di un cavillo una circolare ministeriale impone infatti una finestra di 14 giorni dalla fine della quarantena poi si parte oggi da sasso corvaro ospedali all'osso tour della regione per ascoltare i cittadini telefonate trappola agli anziani allerta della polizia attenzione dunque alle truffe e poi da carpegna san sisto l'orgoglio della via rinata è stata riaperta la provinciale poi sotto c'è lo sport con via le finali scudetto ital service gioca in casa parliamo di calcio a 5 poi vuole futuro incerto la squadra è tutta da rifare corriere adriatico isola isola pedonale nessun dietro front l'area di viale trieste resterà senza interruzioni il comune concede solo correttivi il pressing degli albergatori per chiedere maggiori controlli una volta eliminato il coprifuoco poi i primi studenti usciti dal maxi orale maturi il peggio è alle spalle e poi autorità portuale dopo lo stop in senato sia la camera per africano l'anziana assistita è morta la badante fa sparire i gioielli qui siamo a pesero dosi in farmacia nei punti aspes si comincerà il 28 crisi epatica fatale dopo il vaccino disposta all'autopsia lo vedremo tra poco un caso di un uomo in provincia di macerata due anni dalla morte marco avrà il suo addio oggi il funerale del giovane truffi deceduto in germania il dolore della famiglia le scuse non sono sufficienti il bambino che scrive i carabinieri i carabinieri sono quelli di urbino grazie dell'aiuto nella pandemia allora lavapiatti e camerieri dove sono è un articolo di angelica pansieri l'appello di giacomo grossi titolare della capannina cerco due persone dice lui da un mese ma questo per la stagione ma non li trovo non li trovo qualcuno dice antonella baronciani qualcuno era venuto per il ristorante ma purtroppo non avevano esperienza dunque sos cercasi personale per giugno luglio e agosto la frittata è servita ma il piatto resta vuoto sono diversi i ristoratori che sui social hanno già lanciato un appello ma ecco qua l'altro articolo sul resto del credito di oggi c'è un'opportunità vediamo se qualcuno l'accoglierà McDonald's assume 16 addetti tra Pesero e Fano rinforzi nei due ristoranti ecco come inviare la propria candidatura ha previsto poi un successivo colloquio McDonald's dunque a suo in tutta Italia quindi anche a Pesero e Fano dove ha due ristoranti si ricercano varie figure professionali per un totale di 16 unità equamente distribuite tra le due città un forte segnale di ripartenza e volontà di investire sul territorio i candidati ritenuti idonei verranno invitati ad un colloquio individuale per ulteriori informazioni visitare la sezione entra nel team del sito McDonald's per candidarsi visitare appunto questo portale muore l'anziana, l'anziana che assisteva e la badante cosa fa? ruba tutti i gioielli la donna è stata condannata e la polizia è riuscita a recuperare i preziosi dunque ruba i gioielli in casa dell'anziana che assisteva dopo la sua morte è stata condannata prosciolta invece la detta del compro oro dall'accusa di riciclaggio i fatti si sono svolti nel 2019 quando una signora originaria della Basilicata, 60 anni ha messo a segno diversi colpi a casa dell'anziana che accudiva come badante si ritrova senza acqua in casa perché il vicino ci annaffia l'orto questo è un contenzioso, anche qui parliamo di processi in corso al Tribunale di Pesaro compra una casa in campagna e un terreno ma si ritrova senza acqua ha processo il vicino di 82 anni con la passione dell'orto addio Marco, adesso sei a casa, le scuse non sono sufficienti oggi ha quasi due anni dalla morte, l'ultimo saluto a Marco Truffi il dolore della famiglia, è una storia che viene di nuovo raccontata con ulteriori dettagli da Gianluca Murgia sul Corriere Adriatico è un ragazzo che oggi verrà salutato in chiesa alle 4 del pomeriggio alle 16 a Santa Maria Assunta di Montecchio amici, parenti, insomma potranno dirgli addio in un vero funerale quasi due anni dalla morte avvenuta ad Hamburgo e comunicata con colpevole ritardo alla famiglia per un cortocircuito internazionale e qui c'è la storia che probabilmente molti di voi ricorderanno adesso sulla pagina invece di nuovo del resto del canino parliamo di maturità perché sono iniziati gli esami anche quest'anno un po' così insomma gli esami di maturità per moltissimi studenti porte sbarrate però per 14 di loro vaccinati e sani ma gli è stata, gli è negata praticamente la presenza a scuola accade questo ad Urbino, all'ITIS una circolare del Ministero impone follemente che siano trascorsi 14 giorni dalla fine della quarantena l'unico fatto è che certamente ci si poteva muovere un po' prima nelle farmacie e vaccini dal 28 di giugno somministreremo Pfizer a tutti il Presidente di Aspes Luca Pieri spiega come sarà l'organizzazione del servizio questi vaccini in farmacia a partire dunque dal 28 di giugno c'è maggiore chiarezza soprattutto dopo il caso AstraZeneca e dunque somministreremo Pfizer prenotazioni non cancellate ma spostate dice Luca Pieri quella di ieri doveva essere la giornata di avvio di queste vaccinazioni nelle farmacie marchigiane ma come ormai era stato già comunicato non è andata così perché c'è stato questo stop con AstraZeneca intanto Ricci sette anni da sindaco Pesaro pronta a rinascere appuntamento questa sera alle ore 21 in piazza del popolo ad intervistarlo sono tre giornaliste Simonetta Marfoglia, Elisabetta Rossi e Alessandra Massi questa invece è la pagina 9 del Corriere Adriatico muore per una crisi epatica si era vaccinato nove giorni prima il funzionario della provincia di Macerata aveva 58 anni era stato trasferito a Torrette disposti a certamenti l'assessore Saltamartini dice le cause saranno valutate nei prossimi giorni la famiglia intanto vuole partecipare con un consulente incidente nel sottopasso nella notte in via De Gasperi in zona Loreto a Pesaro ferita una giovane coppia viaggiavano in scooter che poi è finito a terra femore rotto per la ragazza di 22 anni trasferito ad Ancona invece il 26enne l'addio a Sartini siamo a Senigallia il medico di tutti sconfitto da un tumore a 65 anni era andato in pensione il primo novembre scorso ringrazio di cuore i miei pazienti dice per la fiducia aveva dato il suo contributo professionale al centro federale tennis da tavolo tennis tavolo di Senigallia i funerali si terranno domani alle 15 nella chiesa del Portone per l'estate invece sempre dalla pagina di Senigallia ma qui siamo a Corinaldo per l'estate torna la ZTL nel centro storico è entrata in vigore martedì scorso e varrà fino al 15 di settembre mentre ancora cronaca da Mondolfo questa è l'immagine di un'auto finita in un campo carambola tra auto al bivio una si rovescia donna ferita l'articolo è di Jacopo Zuccari scontro in via Unità d'Italia a Mondolfo la punto della 52enne è finita nel campo per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia locale si sono scontrate una Infiniti guidata da una donna di San Costanzo di 42 anni e appunto come dicevamo una Fiat Punto che aveva al volante una donna di 52 anni di Ponte Sasso siamo a Fano ancora dai giornali la pagina di Cattolica Gabice moto travolge una bambina un incidente in Viale Zara ieri sera traumi alla testa per la piccola di 5 anni si trovava in vacanza con la famiglia nella regina trasportata poi a Rimini yacht di lusso siamo nella pagina di Fano del Corriere Adriatico trappola in alto mare due uomini scusate accusati di tentato furto aggravato in concorso di una barca ormeggiata a Corfu siamo in Grecia l'inchiesta più ampia ha visto coinvolti e condannati un fanese di 74 anni e la moglie di 43 dunque si tratta di un processo anche in questo caso uno yacht di lusso ormeggiato in Grecia le carte per poterlo vendere in maniera abusiva con falsi documenti e falsi attestati di navigazione è iniziato a Pesaro il processo a carico di un napoletano di 41 anni di un moldavo di 47 accusati di tentato furto aggravato in concorso sulla Fanurbino studio di fattibilità completato adesso i costi sono state fatte ispezioni approfondite sulla Fanurbino per identificare tutti gli interventi che verranno quantificati nel documento finale siamo adesso invece nella pagina 21 la pagina di Fano del Corriere Adriatico si parla di vacanze ma soprattutto vacanze destinate o fatte su misura per i piccoli principi per i bambini lanciata la campagna promozionale la città dei bambini e delle bambine punta sulle famiglie progetto condiviso con le strutture ricettive per una proposta uniforme e soluzioni su misura il sindaco Seri dice il meglio per il trentennale Lucarelli invece tranquillità e benessere sono le nostre armi parcheggi blu invece la grande fuga raccolte 800 firme lo scontento dei negozianti di Lido e di Sassonia Pezzolesi dice sgraviamo chi lavora intanto nella fotografia il Corriere Pubblica Stefano Poligioni che è il segretario cittadino dell'Udc le pagine 16 e 17 del resto del carino di Fano le andiamo a vedere insieme mezzi vuoti i posti blu e chi si arrischia paga da via Spuntini a Viale Adriatico insolita distesa di parcheggi liberi al mare e malgrado la moratoria promessa spuntano multe sul parabrezza il sindaco di Fano dice i primi due o tre giorni ci vuole buon senso prima di reprimere bisogna informare l'Udc ha raccolto 800 firme stasera la Lega chiederà di provvedere ad un indennizzo per gli operatori poi c'è l'altra notizia qua vedete Casello Affenile Affenile di Fano Baldelli l'assessore regionale ci crede sul ripristino della Fano Urbino definiti gli interventi con RFI e poi il ballo del mattone boom di pratiche edilizie i dati dell'ufficio urbanistica di Fano parlano chiaro dice l'assessore Fanesi in sei mesi già ha raggiunto il numero di accesso agli atti degli anni precedenti Alzheimer e scronto tra i sindacati e il presidente Paolini il numero 1 di via Gramsci ha organizzato un incontro con un privato senza avvertirli dice errori nel merito dicono e accusano di essere stati fatti errori nel merito e nel metodo poi progetti per le persone fragili un bando rivolto alle associazioni adesso sulla pagina di Urbino invece guardate questo disegno il disegno che un ragazzino di 12 anni di Carpegna ha consegnato ha regalato ai carabinieri di Urbino un disegno per dire grazie all'arma ci avete sempre aiutato e protetto la lettera di questo 12enne Nicola Sgaudenzi ai carabinieri di Carpegna l'emozione del capitano della compagnia Puglisi Carpegna è ora covid free zero positivi e zero quarantene torniamo a Fano perché sulla pagina della Valmetauro si parla della riqualificazione dei passeggi che è un polmone verde della nostra città nuovi cantieri missione parco delle meraviglie intanto sarà aperto sabato e domenica ci sono dei lavori con conseguente chiusura parziale scrive Andrea Maduzzi questa mattina sul giornale e da ieri fino a domani sarà interdetto il lato pesero di questo polmone urbano per la posa di stabilizzato e ghiaia sul vialetto e per la pulizia delle caditoie da lunedì fino a mercoledì prossimo analogo intervento però sul lato opposto quindi lato Ancona e anche in questo caso l'accesso sarà vietato Minardi detta l'agenda qui parliamo un po' di politica il congresso del PD da fare subito si deve definire la linea politica Minardi dicevo detta l'agenda gruppo idem in pressing Furlo invece il Furlo sono ormai due mesi che gli abitanti e gli esercenti del Furlo chiedono ai comuni di Acqualagna Fermignano e Fossombrone che sono competenti per essere i proprietari di porzioni diverse di questo territorio che insiste appunto sulla gola del Furlo di in qualche modo dare al pubblico ai visitatori agli automobilisti le necessarie informazioni in merito alla chiusura del passo perché il problema come scrive Roberto Giungi sul giornale stamattina è che il problema nella sua essenza riguarda i turisti che arrivano da lontano e che quindi non conoscono il posto cioè sanno che c'è ma non sanno esattamente come arrivarci transitano dunque e non trovano indicazioni utili per arrivare al Furlo di conseguenza poi se ne vanno altrove più o meno rassegnati come succede il più delle volte ancora da Senigallia la spiaggia è senza pace di notte blitz dei vandali squarciati lettini lo sfogo in un video di Perini dei bagni Marta 55 e si domanda è questo il turismo che vogliamo in città da una decina d'anni la paghiamo noi la sorveglianza con costi esorbitanti 1000 euro al mese ogni bagnino però non è giusto perché ci sono delle regole precise che nessuno fa rispettare l'articolo di Sabrina Marinelli ubriaco dopo la mezzanotte sempre a Senigallia doppia sanzione ad Ostra un giovane è stato multato dai carabinieri che sono intervenuti per sedare una lite una lite tra chi? tra un 26enne peruviano residente a Milano ma domiciliato ad Ostra che a un certo punto si era messo a importunare un passante per un po' il passante gli ha risposto dopodiché ha detto senti visto come sei messo ti lascio lì da solo nel frattempo però sono arrivati i carabinieri che hanno dovuto tranquillizzare insomma questa persona ubriaco per chiudere invece come sempre la nostra segna stampa Fano e sindaco a confronto siamo sulla pagina di sport del Corriere ieri c'è stato un incontro tra la dirigenza Granata e Seri che era accompagnato dall'assessore allo sport le parti si rivedranno dopo che verranno sondate le intenzioni di questo imprenditore questo De Marchi che dovrebbe entrare nella compagine sociale e dare una mano a Enrico Fattofidani prima di procedere all'iscrizione in Serie D ma attenzione perché non c'è soltanto il Fano che insomma viaggia in acque un po' così ma c'è il Fossombrone che invece sogna sogna ad occhi aperti perché domenica proverà in qualche modo a compiere l'impresona il tecnico vedete mister Michele Fucili racconta come sta preparando la finale col Porto d'Ascoli l'ultimo sforzo dunque per alzare le mani al cielo e quindi per scrivere una pagina di storia straordinaria corre e su del Fossombrone per preparare al meglio la finalissima di domenica contro il Porto d'Ascoli l'articolo di Marco Spadola chiaramente se vince il Fossombrone dall'eccellenza passa in Serie D e dunque potrebbe giocare col Fano credo di sì noi intanto ci salutiamo qua grazie per averci seguito vi ricordo questa sera l'appuntamento con occhio alla notizia il nostro telegiornale cui seguirà alle 21 uno speciale su una mostra alla Rocca Malatestiana allestita da Centrale Fotografia buona giornata a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti